Ci troviamo qui al Tanente Onorato, al campo d'allenamento della Nazionale Italiana, dove siamo arrivati proprio stamattina per apporgere un saluto anche istituzionale ai nostri giocatori, a fornire loro un incoraggiamento e fare un grande in bocca al lupo. Per noi è motivo di orgoglio avere la Nazionale qui a Palermo e non solo perché dà grande visibilità alla nostra Sicilia, alla nostra bellissima città, ma anche perché scegliere Palermo è sicuramente anche una scelta d'amore perché sanno, soprattutto la federazione, che qui troveranno grande calore, grande affetto e supporteremo senza dubbio la nostra Nazionale Italiana. Quindi un in bocca al lupo a tutti i nostri giocatori, ma soprattutto a noi, che questo percorso sicuramente ci porterà lontano. Ecco, questo è l'augurio che facciamo.